Ciao a tutti, stasera Cardiotonne, facciamo un piccolo riscaldamento veloce con un sistema piramidale, quindi piramidale decrescente dove andiamo a fare degli esercizi che poi andiamo a diminuire e poi quello ci condizionerà mentalmente per preparare una lezione di Cardiotonne dove metterò insieme degli esercizi combinati a fondi, contraffondi, squat, ok? Cominciamo! Apri! Ok, crossover! Repeater destro! Tutti i step touch adesso, scambiamo un pochino la parte superiore, vai! Attenzione, mi serve amici alla parte sinistra, va? Quattro, tre, marcia, chiusa! Attenzione, cross! Ripete, sinistra! Quattro, tre, due, step touch! Occhio su, come prima! Pusso, go! Pusso, go! Ok, riprendi, forza chiusa, otto tempi sotto Apri! Cross! Ripeto! Step, touch! E in su! In su! Candeliere! Completa! Su! 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 Riprendi! Apri! Cross! Ripeto! Step touch e riprendo, eh! Go! Cambia! Su! Su! Completo! Ok, tagliamo! E andiamo! Un, due, tre, apri! Chiudi! Un, ripeto! Subito! Apri! Su! Su! Vai! Marcia! Come va? Possiamo iniziare? Quattro, tre, contraffondo, destra! Ci siamo? Altra quattro! Sì! 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 Destro! O! Attenti alle varianti! Facoltative sempre! Ruota! Guarda! Ruoto! Se voglio, sollevo! Quando torno! Ci siamo? Attenti! Tre! Tre! Due! Uno! Stai! Tre! Attenti alle varianti! Guarda! Facoltativo! Su! Dammi un'altra! Su! Ok! Squat! Cammino! Uno! Doppio! Torno! Ancora una volta! Su! Hop! Ok! Affondo laterale! Hop! 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 Attenti alle varianti! Hop! Gattro! Facoltativo sempre! Rimani in equilibrio! E spingi! 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 La! Spingi! Spingi! Tre! Lancia! Equilibrio! L'ultimo! Repeaters! Go! Attenzione che alla fine di repeater se lo misometria! E poi cambierò gamba! Attenzione! Su! Quattro! Tre! Due! Su! Ho cambiato gamba! Ancora quattro! Ok! Vai! Parto subito con le varianti! Su! Potete scegliere di non sollevare il piede e di non fare la rotazione! Ok! Vado dietro in tre! Tre! Due! Uno! A casa! Tre! Due! Uno! Ancora due! L'ultimo! Ok! Mi sposto! Squat! Squat! Doppio! Torna! Ancora una volta! Su! Ok! Una gamba! Ho! 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 Avete notato le isometrie? I lavori in proprio sezione? Quattro! Tre! Adesso dobbiamo rimanere in equilibrio! Stai e dietro vai! Uno! Due! Tre! Busso inclinato! Uno! Due! Tre! Ancora! Uno! Due! Tre! L'ultimo! Ho! Ho! Ci siamo? Ripita! Vai! Attenzione all'isometria! Quattro! Tre! Due! Là! Ancora! Attenzione andiamo a tagliare tutto! Di mezzo tutti i tempi! Tre! Due! Go! Cambia! Solo! Vai! Due volte! Una! Una andata e un ritorno! Torna! Ok! Quattro! Quattro! Tre! Due! Isometria! Uno! Due! Tre! Block! Uno! Due! Tre! Ripita! Uno! Isometria! E fermi! Fai un check della posizione! Quattro! Tre! Tutto! Di là! E... Hop! Hop! E sono quattro, eh! Fai quattro dietro! Bene! Tri step! Hop! Hop! Per due volte! Hop! Ok! Vado! Giù! Torno! Ok! Quattro singoli! Vai! Giù! Su! Giù! Su! Giù! Blocca su! Uno! Due! Tre! A! Uno! Due! Tre! Ripita! Attenti all'ultima esoteria! E poi tagliamo tutto! Ora! Check della posizione! Stretch! Quattro! Tre! Tutto! Due volte qua! Uno! Cambia! Ok! Tre! Uno! Uno! Adesso! Torna! Singoli due! Bravi! Ok! Hop! 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 Ripita! Stai! E torna! E giù! 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 Su! Giù! Là! Uno! Una volta sola! Vai! L'ultima volta ripetiamo tutto che ho finito! Vai! Go! Bravi! Stop! Oh! Gira! Torna! Là! Singolo singolo torna! Ok! Stai qua! Due volte! Attenti su! E là! Busso inclinato! Ripete! Isometria! Check! Posizione! Ok! Andiamo! Oh! Contraffondo alternato! Sinistro! Ok! Tre! Tre! Ruota! Ok! Uno! Giù! Perfetto! Due singoli! Hop! Hop! Blocca! E! E! Inclina! Ripita! Su! Isometria! Ragazzi! Abbiamo finito! Marcia! Su! Grazie a tutti! Cercate di seguire gli esercizi con le eventuali varianti se siete molto sicuri della vostra posizione altrimenti senza sollevare la gamba o senza fare le rotazioni rimaniamo sulla base! Grazie a tutti e al prossimo video!